Il Comune di Biella per mano dell'assessorato all'educazione, istruzione, politiche e giovanili da due anni e mezzo è impegnato in prima linea e risponde ad un attacco nemmeno troppo velato arrivato dalle minoranze in Consiglio. Era stata la consigliera Mazza del Partito Democratico a sollevare la questione ed ora documentano i dettagli sulle molteplici attività messe in campo. Per affrontare alcune di queste tematiche il Comune di Biella ha sviluppato una serie variegata di iniziative. Tra i progetti con finalità civica e di socializzazione già operativi ancora in corso si può citare il progetto di street art realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico di Biella ed ancora parchi giochi diffusi realizzato grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte per permettere ai bambini di socializzare e di giocare. È stato inoltre finalmente costituito e formalizzato un tavolo di programmazione territoriale col compito di elaborare il piano annuale degli interventi a favore degli oratori. Il Festival del Fumetto Nuvoloso, giunto alla quarta edizione quest'anno dedicato alla natura che verrà, tratta un tema di urgente e grandissima attualità che è stato sviluppato dai giovani fumettisti in tutte le sue declinazioni. Palazzo Ferrero, nell'ambito della Convenzione in atto per la sua gestione, ha messo a disposizione per tre mezze giornate a settimana una sala per particolari attività creative a favore dei giovani. Volgendo lo sguardo verso i progetti con finalità di recupero e inclusione, va annoverato il progetto educativa di strada, finalizzato alla prevenzione e al contrasto del disagio minorile. Ed ancora il protocollo Fondazione Falco, nato per offrire un supporto ai minori più sfortunati, che anche a causa dell'emergenza sanitaria sono rimasti incastrati tra povertà materiale e mancanza di opportunità educative. Infine, il protocollo sui disturbi del comportamento alimentare, al momento unico esempio di raccordo a livello nazionale tra Comune, ASL e Associazione Minutro di Vita, vuole avviare un percorso di consapevolezza e soprattutto di risposta sanitaria. Il tema dei DCA per questa amministrazione è centrale nelle politiche di sostegno ai giovani e alle famiglie, così ha chiusato l'assessore Bessone. Per questo l'assessorato alle politiche giovanili sta mettendo in campo numerosi eventi di sensibilizzazione e informazione, di cui il primo avrà luogo a Palazzo Ferrero il prossimo 19 febbraio.